Le energie rinnovabili sono il presente e allo stesso tempo il futuro della produzione elettrica mondiale. Hanno la capacità di rigenerarsi continuamente e in quantità tendenzialmente inesauribile. Sole, forza del vento, dell'acqua, calori della terra. Produrre energia rinnovabile vuol dire utilizzare questi elementi presenti in natura per generare energia elettrica. Un'energia che rispetto a quella prodotta dalle fonti convenzionali è in grado di ridurre drasticamente il livello di emissioni. Di questo argomento ne ha parlato con esempi concreti. Un gruppo di ambientalisti che da casa Archilei ha lanciato un appello per sensibilizzare le istituzioni e la popolazione. In realtà, ha dichiarato Luciano Benini, di questo tema se ne discute da decenni. Dobbiamo uscire dall'era dei combustibili fossili il più velocemente possibile. Scherzando dico che il prossimo anno saranno 50 anni da quando ho sentito per la prima volta dire che le rinnovabili sono molto belle ma non possono risolvere il problema. Ecco, invece anche già da allora e ancora a maggior ragione oggi, le rinnovabili possono risolvere tutti i problemi. Nel senso che noi possiamo e dobbiamo fare a meno dei combustibili fossili, quindi gas, petrolio e carbone, prima possibile. E possiamo farlo specialmente in Italia dove abbiamo una ricchezza di energie rinnovabili straordinarie. sole, vento, geotermia e quindi dobbiamo andare in questa direzione invece che perdere tempo con tutta una serie di ricerche di gas in mezzo mondo che invece oggi è davvero la stata sbagliata. Le rinnovabili sono la soluzione. Per applicare a Fanno l'uscita dai combustibili fossili, ha spiegato Benini, sarebbe sufficiente installare pannelli fotovoltaici su una metà dei tetti dei capannoni industriali o su poco più di quelli delle abitazioni. Inoltre il ricorso a pannelli e pompe di calore permette di eliminare completamente il consumo di gas. A soffermarsi sulle risorse geotermiche Leonardo Zann. Noi utilizziamo il calore che c'è nel terreno e estraiamo delle calorie dall'acqua che è a certe profondità. La geotermia è qualcosa che si può applicare sia a piccolissima scala a livello di casa privata, sia a livello di condominio, come per esempio in Francia, il bacino di Parigi, è obbligatorio a tutti i condomini applicare le sonde geotermiche. Obbligatorio proprio. Ora hanno messo obbligatorio anche i pannelli solari sulle nuove case, per esempio. Francia è molto avanzata. Per cui anche qui in Italia potremmo fare qualcosa del genere. Farò vedere degli esempi pratici, che partiamo sia dalla singola abitazione a un piccolo comune come Bagno di Romagna. Se voi andate a Bagno di Romagna, sulla sinistra vedete una palazzina che c'è scritto Cenziale Geotermica. È un progetto che abbiamo fatto noi. Lì c'è le terme, chiaramente. Erano terme sui 40 gradi, però abbiamo capito che l'acqua era miscelata con acque fredde e superficiali, forse a 100 metri, che è a pochissimo costo. Abbiamo trovato l'origine di queste acque, sono molto più calde e sfruttiamo quelle per riscaldare tutto Bagno di Romagna, che non ha nessuna caldaia, ma solo di contacalorie. Per cui è un comune carbon free completamente. Da qui andiamo poi alla Toscana e provincia di Siena, dove Toscana va al 33% con la geotermia, centrale da 800 MW. Per quanto riguarda gli incentivi statali, invece, gli esperti hanno precisato che per la geotermia sono a disposizione dei bonus i quali permettono un recupero fiscale del 65% in dieci anni. Ci sono degli impianti già realizzati nel nostro territorio? Sì, ci sono diversi impianti realizzati. Mi piace citare gli ultimi due che abbiamo realizzato. Uno è la committenza del gruppo Rivacold, che per riscaldare e raffrescare la sua nuova mensa ha installato un impianto geotermico a Montecchio di Pesaro. L'altro è il nuovo santuario Castacolo di Urbino, che per quanto riguarda il riscaldamento dell'intera struttura è altrettanto alimentato da un impianto geotermico. Quindi sono funzionanti e riscontrabili da tutti quelli che vogliono interessarsi a questo argomento. Quali sono i benefici? C'è anche poi un risparmio? Sì, diciamo che rispetto a una pompa di calore non geotermica si stima intorno al 30%. Poi naturalmente la stagionalità e l'utilizzo dei terminali interni dell'impianto determinano risparmi maggiori o minori di questo dato medio.